La Calabria, l'Università d'Estate, Soveria Mannelli, la cultura e la Calabria al centro e anche dei suoi obiettivi. Io ho degli obiettivi calabresi che partono da qua, quando nell'89 venni da un giovane sindaco che è ancora imperversa della sua città, mutando il ruolo ma non l'impegno e da qui andai con un medico di Lamezia a vedere la cosenza che per lui non c'era e che era la rimozione non per terremoto ma per smemoratezza e inconsapevolezza del centro storico di Cosenza. Era esattamente come se fosse stato perduto in un terremoto dell'Ottocento, del primo Novecento. Invece c'era il centro storico, c'era ma era come se non ci fosse, non se ne aveva consapevolezza, si pensava evidentemente di poter procedere a una modernizzazione attraverso quello che l'Italia ha patito di violenza terribile, di edilizia moderna e quindi l'integrità del centro storico è un simbolo. Oggi può diventare un simbolo per la messa in sicurezza e quindi per quello che da matrice viene come un impegno non a ricostruire soltanto ma a prevenire. Prevenire partendo dal centro storico di Cosenza che tra l'altro aveva la targa o aveva la targa CS come centro storico e il centro storico per eccellenza è il punto d'arrivo di un'operazione nata qui in un centro storico relativamente ben conservato ma non privo anche lui come tutta la Calabria e tutta l'Italia di orrori fatti negli ultimi 50 anni il punto di partenza per una salvaguardia almeno dalla violenza della terra della bellezza d'Italia e dei centri storici. Quindi partiva di qui. Dopodiché io non ero ancora diventato né sindaco né deputato né sottosegretario. Pensavo che la politica fosse una cosa disdicevole come in parte è stato ed è ma è anche il contrario perché la politica nella sua dimensione quella per cui essa esiste è fare qualcosa per la polis quindi per la città e allora se un sindaco o un politico fa qualcosa di efficace e utile come fece Belluscio in Calabria per Altomonte evidentemente quell'azione politica è positiva, utile e degna di ammirazione. E allora come per una specie di teorema compiuto quello che nel 89 era un intellettuale che vedeva la Calabria come una terra piena di problemi e nel senso storico un punto di partenza per una risurrezione nella direzione della bellezza nel percorso complesso e articolato delle tante cose fatte e fra queste anche un partito della bellezza di non grande risultato ma di sicuramente intuitiva azione. Questo ha portato da allora quindi di 89 lungo la mia azione politica e culturale lungo il partito della bellezza a Ainis il quale ha chiesto lui a me di fare un libro che è una Costituzione come quelle che i presidenti della Repubblica diffondono nelle scuole gratuitamente e invece si può perfino comprare con soddisfazione perché si allega la parola Costituzione e la parola bellezza nello spirito di quello 89 e quindi il libro è per l'università d'estate di Soveria Bannelli un'indicazione importante che dà valore alla mia posizione partita da qua, dà valore alla bellezza per intendere che ci sono mille problemi per i cittadini italiani e per la vita delle persone di cui il lavoro dell'articolo primo della Costituzione è indicato come essenziale ma è altrettanto essenziale che il lavoro venga da una bellezza che può produrre felicità e può produrre benessere, cosa che sarebbe proprio se valutiamo il fatto che le Baleari in cui oggi è andato l'ex sindaco Caselli che abita a Diamante, uno sta a Diamante e va alle Baleari, ci avrà un problema ventale, uno dice si chiama La Figa e questo lo capisco, però tolto quello che si trova anche localmente in senso tecnico, lui parte e va alle Baleari il che prova che le Baleari sono più attraenti di Diamante, allora prendiamo il perimetro delle Baleari, sono 1450 km, qual è il perimetro della Sicilia per un leader da Calabria? 1450 km, quanti turisti vanno alle Baleari dove non c'entra a vedere, non ci sono monumenti, non c'è Magna Grecia, non c'è centri storici, vanno 75 milioni di persone che vuol dire un'economia che funziona, in Sicilia 5 milioni, ci sarà qualcosa che non funziona, la Sicilia non è che è meno bella delle Baleari, non è che ha meno attrazioni, è che ha la criminalità, i magistrati che sono parte di una società pericolosa, voglio dire solo quello, i monumenti minacciati ma grandi monumenti meravigliosi, i centri storici che sono violati, l'accoglienza che non ha la stessa forza e quindi l'Italia ha evidentemente, la Sicilia, la Calabria ha perso delle occasioni che altrove hanno colto, quindi vuol dire che la bellezza può produrre, dall'altra parte chi discute, chi produce economia positiva un'area come Capri, Ischia, Ostuni, Ravello, Sorrento, vuol dire che la bellezza può produrre e quindi non è molto complicato, devi chiamare Tremonti per sapere che non è così quando invece è così. Detto questo il percorso che abbiamo indicato partire da qui e arrivare a una, diciamo, teoresi attraverso Ainis che lui mi chiede di fare un libro sulla Costituzione e la bellezza, indicandola come elemento costitutivo quindi essenziale per gli italiani e anche per il loro sviluppo, che è comunque un obiettivo importante che riguarda la vita delle persone, anche loro non partire, non andare né per lavoro, emigrando come fanno quelli che hanno situazioni di disperazione, né come caselli andare a Formentera. Ci sono due ragioni per cui uno deve dire ho ottime ragioni per stare bene qui, il lavoro e la bellezza. Tutto questo culmina nella citazione non politica benché sia un ruolo politico ovviamente di assessore al centro storico di Cosenza, non perché io faccia parte di una qualunque maggioranza che ha un obiettivo politico esterno o interno della politica, ma perché sono partito da Soverea Vannelli. Come dire, da qui parte Sgarbi. Grazie.